Etricasa, la città scelta per il raduno nazionale della città del sollievo, promosso dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, è giunto alla sesta edizione con l'obiettivo di diffondere la cultura del sollievo come opportunità offerta agli ammalati di alleviare il dolore fisico e psicologico al fine di restituire loro la dignità che una malattia terminale spesso compromette. Che all'inizio il nostro hospice nel 2008, quindi ormai ha i suoi 14 anni, non aveva ancora svolto la funzione che oggi ha. Oggi ha veramente stravolto la teoria dell'accoglienza e della speranza. È un luogo in cui tutti sperano di poter passare i momenti terminali della propria vita, lo dico con coscienza, io sono passato da questa esperienza e quando la racconto, racconto proprio questa. Costruire una rete solidare tra le città che ospitano centri di cure fondate sulla logica dell'arte del sollievo contribuisce a sviluppare una progettualità capace di una reale collaborazione tra le diverse istituzioni che stabiliscono come loro unico interesse la concretizzazione del bene comune quale fine di ogni impegno politico, sanitario, sociale e religioso. Con l'ospesi, ma anche con l'ospedale, ma anche con altre attività. Per noi la cura della persona, non della malattia ma soprattutto della persona, per noi è importante. È stato organizzato soprattutto un convegno per approfondire la cultura della cura integrale della persona a 360 gradi.